C'è il fischio, va Magul, palla da una parte, Baldi dall'altra, 1-0 Inter al minuto 40, rigore perfetto di Magul. Poi Polli, Giorgiova, Polli con la grande giocata, il cross sul secondo palo, c'è Bonfantini che spinge in porta, il 2-0 Inter. Vuole andare sul sinistro, poi all'indietro per Severini, subito Severini, subito Fiorentina che torna nel match, va Vero Bocchete all'angolino, fa festa la Fiorentina al photo finish, Vero Bocchete riprende l'Inter, è 2-2. Angolo battuto, colpo di testa di Goscia, arriva il vantaggio del Milan sul secondo palo, traiettoria velenosa di Goscia, Mesiaz e sblocca il match qui allo Stadio Liguari. Palla dentro, interessante per il colpo di testa, vincente da parte di Goscia, doppietta di Mesiaz. Dentro per Nambi, che gira per Gimanozki, Gimanozki controlla bene, Gimanozki col piatto, trafinge Bab e riapre il match al minuto numero 73. Gimanozki va dall'altra parte a cercare il destro di Domi, che ci arriva! E c'è un euro-goal del Pomigliano, che trova il pareggio, al minuto numero 88. Sono già 7 per lei, i centri in questa stagione, e diventano 8. E a sinistra il Como, con Cajan, che può andare a metterla in mezzo, palla che rimane lì! Arriva il gol del 2-0, alla prima iniziativa. La squadra di Rossi, che prova a reagire subito con Giordano, tocco dentro! E immediata replica, da parte di Baldi, che riapre tutto. Martinovic, scatta in posizione buona, la mette in mezzo, per la schiacciata! Sotto misura, da parte di Carlenas. La squadra giallo-rossa, qui tocca male Gianni, Giacinti, Giacinti! Lei non sbaglia! 1-0, azione identica! Molto lunga, trova Vienne, che prova a girarsi, va al centro Vienne, palla che rimane lì, Giacinti! Mette dentro il gol del 2-0, in 11 minuti. Playdrop su di lei, il dribbling di Vienne. Giugliano, Giugliano, Giugliano! 3-0 Roma, 20 minuti di show delle ragazze di Mister Spugna. Ancora Santoro, vuole il fondo per il cross, la palla al centro, Sabatino la difende. Clelland con l'esterno! Accorcia da distanza il Sassuolo. Spaglia all'85, palla che passa, Ionna! 4-1 Roma, trova Sabatino, il velo per Clelland. A giro Clelland! Cosa ha fatto Ciasar? Non è finito Sabatino! 2-4! Copro il pallone Vienne, Vienne! Vienne, Vienne! 5-2 per la Roma! Non playdrop, qui Cullaci, Cullaci! Cullaci! L'ha inventato ancora nella stessa porta! Poi Pondini, torna al centro. Clelland con la testa! 4-5! Attenzione, ha pareggiato il Sassuolo! 5-5! 5-5! 5-5! Non è vero! Al centro, attenzione a Fajer, Singer! 6-5! 6-5! 5-5! 6-5! 6-5! Grazie a tutti.